Va bene, Pago mi sta pariando addosso, qui tutti mi stanno guardando, è un piacere, guardiamo bene a terra, altrimenti faccio una capriola. Ben trovati, siamo in piazza 27 gennaio qui a Monte di Procida dove Valerio Scano aprirà i festeggiamenti. Queste sono le iniziali di Valerio Scano. Ben trovati, siamo in piazza 27 gennaio a Monte di Procida dove aspettiamo Valerio Scano che aprirà i festeggiamenti. Aiuto? No, solo a Nabila possiamo fare le interviste noi, siamo nella pace del Padre Eterno. Allora dimmi tu. Avere, basta. Ben trovati, siamo in piazza 27 gennaio a Monte di Procida dove stiamo aspettando Valerio Scano che aprirà i festeggiamenti del... No, ma basta. Mi sto troppo distraendo. Si, ti piace. Ben trovati, siamo in piazza 27 gennaio a Monte di Procida dove stiamo aspettando Valerio Scano che aprirà i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta qui per il Ferragosto. Come potete vedere qui alle mie spalle il palco è pieno, le fans sono già pronte in prima fila quindi dobbiamo solo attendere il suo arrivo e cerchiamo di scambiare qualche parola con lui. Quindi a dopo.